ciao ragazze benvenute bentornate nel mio canale oggi andremo a conoscere i prodotti plinio nails è un'azienda italiana dove potete trovare i classici semipermanenti e anche gel e il nuovissimo acry gel questi sono due gel monofasici ad alta viscosità abbiamo il gel monofasico rosa con questa colorazione bellissima è una consistenza altrettanto bella poi vi farò un video a parte in cui vi mostro come li uso questo invece il gel monofasico alta densità clear ha le stesse caratteristiche di quello rosa e lo vedremo in un altro video poi abbiamo il nuovissimo sistema acry gel che è veramente un'innovazione nel nostro campo perché contiene metà gel e metà acrilico però ha una lavorazione diversa e va polimerizzato in lampada io mi trovo veramente bene con questo nuovo sistema sia nella lavorazione che anche nella tenuta e lo vedremo ora in azione nel video poi abbiamo la base sigillante per il classico smalto semipermanente la nuovissima base bridge nella colorazione rosa è una base rubber che ci consente di dare un rinforzo ulteriore al nostro semi permanente una colorazione veramente bellissima molto naturale potete trovarla anche in altre colorazioni e ci consente di fare un mini allungamento e di dare maggiore rinforzo al nostro semi permanente vediamo adesso i colori questo è un semi permanente il numero 243 che poi andremo a stendere il 204 è un bellissimo arancio sono dei colori molto pigmentati lo vedrete poi nel video e poi per ultimo il 169 che è un rosa fluo veramente bellissimo sono i colori che io ho usato sulle mie unghiette e come vedete ce l'ho su da un mese il top e il top glass che ancora le mantiene perfettamente lucide infatti proprio per il suo nome ha un effetto vetro veramente bellissimo andiamo adesso a vedere il gel color abbiamo il 271 che è questo giallo fluo veramente bellissimo anche il gel color li stenderemo insieme poi abbiamo il 270 che è questo orancio e il 363 questo fucsia bellissimo che è questo che io ho sulla mia unghietta infine abbiamo il cleaner questo sgrassatore che toglie la dispersione vi ricordo ragazze che Plinio Nails vi offre il 10% di sconto sui prodotti non in promo inserendo il codice NITW io vi lascio al video e vi aspetto al prossimo tutorial ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.